Oh, Madera, che sete che ho? Ieri sera ho veramente superato ogni limite. Forse mi sono ubriacato, perché anche adesso mi sento un po'... Sì, ho esagerato. Io, un uomo del mio livello... Dunque, al banchetto, alla mia destra avevo un notaio, un notaio. Alla mia sinistra, un commerciante di biberon, che raccontava partellette sporche. Com'era quella? Quella del nano sul comò. Come finiva? Ah, ah! Non me la ricordo. Il fatto è che dall'insalata in poi ho il vuoto totale. Alla prima! Alla prima! Alla prima! Grazie a tutti.